Un parco sulla lima destinato agli amanti degli sport fluviali come il kayak, la canoa e il rafting. È quanto prevede il progetto Whitewater Park, presentato a Palazzo Ducale dal presidente della provincia, Luca Menesini, assieme al sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, e al consigliere regionale, Mario Puppa, alla presenza dei rappresentanti del CONI regionale, della FIC Toscana e delle altre federazioni competenti. Il parco sportivo, che avrà un costo complessivo di 316.000 euro, si inserirà nel contesto di Cevoli, dove sarà possibile praticare le attività sul fiume sia a livello agonistico che ricreativo e turistico, secondo un piano di riqualificazione che mette insieme sport, territorio e ambiente, con un'attenzione particolare nei confronti dei diversamente abili. Un progetto importante che valorizza tutto il territorio, a partire dalla risorsa acqua, dalla Lima, dalle associazioni sportive che abbiamo, e quindi diventa un'occasione per fare sport, ma un'occasione anche di attrazione turistica. Questa avviene in diverse parti a livello europeo, ed è importante che avvenga ancora di più in Val di Lima e a Bagni di Lucca. Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un percorso di circa 300 metri, attrezzato con un impianto da slalom e punti di imbarco e sbarco facilmente raggiungibili. Le sponde del fiume verranno pulite dagli arbusti e tenute a erba, con sedute, spazi e servizi adatti per accogliere sportivi, ma anche famiglie o semplici spettatori. Noi abbiamo una grande attività sportiva sul fiume Lima, e questo sarebbe la ciliegina sulla torta, perché si va a creare un campo gara che nell'Italia centrale non esiste, e per le caratteristiche del nostro fiume veramente importante anche a livello nazionale.